della rigenerazione urbana organizzata sia all'interno del Festival dell'Oltre Economia grazie anche all'intervento del Laboratorio Sociale che ha dato il suo contributo all'interno dell'organizzazione della manifestazione. Abbiamo qui con noi Giacomo Borella, architetto dello studio Albori di Milano, scrittore su numerose testate giornalistiche come Corriere della Sera, Lo Straniero e Gli Asini e anche ha collaborato spesso in maniera intensa con Radio Popolare di Milano che è qui con noi che ci parlerà del libro Architettura del dissenso, forme pratiche alternative dello spazio urbano del quale in realtà è curatore e che racconta ed è una raccolta appunto di scritti dell'architetto o per meglio dire dell'architetto autodidatta Colin Ward che è una figura poco conosciuta e che è molto interessante e di cui ovviamente l'architetto Borella ci parlerà molto meglio in maniera sabriente questa sera. Grazie. Buonasera. Allora, questa è un'antologia di scritti su temi di architettura, di città e di urbanistica di Colin Ward che è considerato da molti una delle figure più importanti del pensiero anarchico del nostro tempo. Colin Ward era nato nel 1924 in Inghilterra ed è morto nel 2010 e lui si è sempre definito un propagandista dell'anarchia e ha fatto tante cose diverse, ha scritto tanti libri diversi, però il libro nasce anche dalla considerazione che su una trentina di libri pubblicati da Colin Ward una ventina riguardano i temi della città e dell'architettura e di questa parte ne sono stati tradotti solo un paio in italiano e quindi che fosse per la rilevanza non tanto per ieri ma per l'oggi della ricerca su questi temi di Colin Ward fosse interessante e sensato tradurre e introdurre in lingua italiana questa parte del suo lavoro che è stata così importante a cui ha dedicato molte energie. Colin Ward non era un architetto, non era un progettista ma si è trovato appunto ad occuparsi molto spesso di abitare. Come è avvenuto questo? in due modi principalmente, che sono anche i due ingredienti forse principali della sua formazione e anche poi della sua ricerca. Da una parte Colin Ward che è nato a Londra nell'E-Stand è parte del proletariato urbano londinese, ha lasciato la scuola a 15 anni e durante la guerra il suo secondo o terzo impiego è capitato di essere quello di disegnatore in uno studio di architettura, cosa che oggi non potrebbe accadere nel senso che è difficile che già non trovano lavoro gli architetti figuriamoci quelli che non hanno fatto neanche la scuola superiore in uno studio di architettura e quindi diciamo da lì siamo durante la guerra, nella Londra bombardata e quindi in questo piccolo studio di architettura di questo architetto di formazione Arts and Craft quindi diciamo formato sia la scuola ottocentesca di questo filone che aveva tra i suoi artefici, i suoi padri William Morris e quindi alcuni aspetti di un socialismo atipico fondato su una dimensione del fare dell'artigianato e del recupero anche di certi aspetti della vita comunitaria antica, medievale però di fatto in quel periodo Colli Ward lavora in uno studio piccolo in cui la cui attività principale è quella di riparare le costruzioni bombardate a Londra quindi fa un'attività molto pratica di misurazione di disegno in cantiere eccetera eccetera questo è un primo aspetto il secondo aspetto della sua formazione che poi genererà insieme al primo questo mix molto particolare è il fatto che poco dopo è chiamato al servizio di leva obbligatorio a distanza a Glasgow in Scozia incontra gli ambienti anarchici della città molto vivi in quel periodo e proprio a causa delle sue frequentazioni anarchiche viene come soldato mandato per punizione nelle isole Orcadi dove di nuovo incontrerà degli aspetti molto pratici, molto bassi legati però diciamo alla costruzione, all'edilizia, all'habitat umano cioè dovrà praticamente montare e smontare i baraccamenti militari ma soprattutto attraverso questo secondo incontro che poi sarà l'incontro diciamo decisivo della sua vita con la cultura libertaria Colling Ward viene molto giovane in contatto con il pensiero anarchico sui temi della città e dell'abitare che aveva una sua ricchezza, una sua ampiezza, una sua generosità di cui Colling Ward diventerà in qualche modo un po' l'erede e l'interprete e anche l'innovatore la tradizione libertaria sull'abitare, sullo spazio urbano, sul territorio più in generale perché riguarda anche le campagne è molto ampia qui su questo tavolino io ho portato un po' di libri che sono in vendita uno di questi è un classico del pensiero libertario che Leuter ha ristampato l'anno scorso, un paio di anni fa è il libro di Kropotkin, Campi, Fabbriche, Officine che in una versione curata, perché era un volumone molto ampio in origine che Colling Ward negli anni 70 aveva fatto il lavoro di riaggiornare togliendo le parti molto precise e circostanziate ma anche un po' datate sui dati, le cifre legate alla produzione, ai rapporti di densità abitativa sul territorio britannico che Kropotkin aveva così precisamente compilato ai tempi e snellendole, tenendole parti, come dire, assolutamente attuali e c'è una mia prefazione a questa edizione questo è uno dei capisaldi del pensiero libertario sul territorio e sull'abitato umano ma attraverso questo bagaglio che in qualche modo Colling Ward scopre e studia giovanissimo lui viene messo in contatto con settori, filoni, figure molto diverse fra di loro, alcune appunto del secolo precedente alcune assolutamente contemporanee appunto vicini al pensiero libertario e sarà uno dei temi su cui Colling Ward terrà una moltitudine di lezioni, di conferenze, di incontri, di scritti, di interventi sarà anche paradossale da un lato per noi oggi origine libertaria proprio delle discipline urbanistiche cioè Colling Ward ha sempre, e non solo lui, ma molti studiosi urbanistica lo stesso Lewis Manford che è una figura di tutt'altro livello di risonanza mondiale però con cui Ward era anche in contatto molti appunto hanno tracciato questa genealogia dell'urbanistica i padri dell'urbanistica erano figure molto vicini ad ambienti libertari, anarchici, ottocenteschi ottocenteschi, Ibn Isra Howard il padre diciamo della città Giardino era uno di questi Patrick Guedes era un'altra delle figure dei padri nobili dell'urbanistica quando ancora non esisteva come disciplina erano entrambi loro e altri dei padri fondatori dentro un reticolo di figure che in quel periodo in Gran Bretagna al centro del quale c'erano alcuni pensatori attivisti anarchici come lo stesso Kropotkin che in quel periodo viveva in Gran Bretagna appunto per il tramite di questa rete reticolo di riflessioni di dibattiti e di pensieri arriva appunto anche allo stesso mondo delle art and craft di William Morris di John Ruskin sempre figure dell'ottocento britannico ma anche a figure invece contemporanee al tempo di Colin Ward stiamo parlando del tempo di guerra e del dopoguerra una delle figure più importanti per Colin Ward e forse l'altro nome della seconda metà del secolo nell'ambito del pensiero libertario di rilevanza internazionale insieme a lui stesso è Paul Goodman una figura oggi poco ricordata tradotto negli anni 60 da Inaudi e da Rizzoli il suo testo forse più noto in Italia ai tempi fatto pubblicare da Norberto Bobbio per Inaudi era la gioventù assurda anche lui figura di anarchico abbastanza tipico altrettanto come dire capace di aperture fuori dall'orizzonte ristretto in qualche modo della cerchia anarchica e anche lui meno di Ward ma anche lui capace di occuparsi di una molteplicità di temi fra cui in molte occasioni l'abitare umano l'habitat l'urbanistica la città fra altre figure con cui attraverso questo reticolo con Lee Ward viene in contatto ci sono altre figure di architetti invece che appartengono a questa area fra i quali legato per tutta la vita rimarrà a Giancarlo De Carlo che è un architetto italiano molto noto scomparso una decina di anni fa allora questi due aspetti della formazione diciamo sul campo dell'incontro con l'aspetto più basso e pratico della disciplina dell'architettura della pratica dell'edilizia della ricostruzione in tempo di guerra eccetera eccetera e di appassionamento per questa traiettoria di outsider sui temi della città dell'architettura prodotta nel corso di un secolo dai pensatori anarchici producono un po' questa strana figura tipica di questa sorta di autodidatta con queste caratteristiche che incarnano proprio questi ingredienti cioè uno sguardo sulla città e sull'architettura molto a partire da una dimensione esperienziale della vita quotidiana di grande capacità di correre tutti gli aspetti di connessione con gli aspetti dimensioni più sociali più del vivere quotidiano e soprattutto lui dirà sempre che il suo campo diciamo è una sorta di ricostruzione di una specie di storia sociale nascosta dell'urbanistica lui diceva cioè il campo in cui le persone trasformano il loro ambiente di vita con il loro fare una definizione abbastanza aleatoria che include come vedremo e sono abbastanza ho cercato di rappresentare questi estremi molto lontani fra di loro appunto delle cose molto diverse che vanno per esempio da cose a cui con il loro ha dedicato anni di studi serie di conferenze interventi numeri di anarchi che era la rivista di cui lui era direttore ma anche quasi redattore unico rivista che ha fatto per vent'anni e che godeva anche di una certa risonanza per i piccolissimi numeri con la quale era fatta anche oltreoceano negli Stati Uniti e questi temi che dicevo così disparati in questa accezione così larga diciamo dei casi in cui gli esseri umani hanno un rapporto non passivo con il proprio ambiente fisico dove abitano andavano per lui da lo studio di che ne so i pionieri del campeggio cioè quando si furono i primi tempi delle vacanze di massa in cui gli operai cominciarono a non lavorare il sabato e cominciavano ad avere qualche ora in più gli operai gli artigiani cominciavano ad avere qualche ora in più cominciò ad esistere la possibilità di una villeggiatura per tutti il tema del campeggio del campeggiare è uno dei temi che Colley World ha studiato ha studiato gli insediamenti di questi campi che non hanno niente a che vedere quei camping attrezzati di oggi e hanno esperienze come dire spontaneistiche pionieristiche che andavano a scoprire una dimensione per esempio i londinesi scoprivano il mare anche se era a pochi chilometri di distanza così come per esempio uno dei suoi libri più belli di a cui ho tradotto due testi in questo libro è un libro dal titolo fra l'altro bellissimo che è Arcadia for all Arcadia per tutti e che riguarda una specie di variante di questa di questa cosa vacanziera che ho appena detto che erano questa cosa che Colli Ward aveva battezzato la New Town fai da te cioè questo fenomeno poco studiato dagli urbanisti avvenuto nella prima metà del Novecento in cui nelle coste del sud-est dell'Inghilterra si era venuto a formare per un intreccio di ragioni legate appunto a questo che dicevo gli albori diciamo di un micro tempo libero delle classi basse o bassissime una crisi verticale del valore dei terreni agricoli più tardi i bombardamenti di Londra e quindi la necessità delle persone di sfollare in qualche zona non bombardata diciamo un mix di tutte queste cose aveva prodotto nel corso di qualche decennio una strana conurbazione vista con orrore dai quelli che lui chiama i preservazionisti cioè le associazioni per la protezione della costa eccetera eccetera ma che erano prodotte dall'autocostruzione di una grande quantità seppure molto sparpagliata di piccole abitazioni nate come temporanee per il weekend o per le vacanze estive e poi trasformatisi in abitazioni durante il tempo di guerra nella sua massima espansione questa specie di conurbazione diffusa aveva raggiunto mi sembra adesso non ricordo più i 50.000 abitanti i 50.000 diciamo posti e poi con il dopoguerra con le new town verrà in qualche modo smantellata o in parte riassorbita dentro da alcune new town che diciamo costituiranno la loro maglia il loro tessuto anche a partire da queste strutture urbane prodotte dagli insediamenti informali di queste cose nella descrizione di questo bellissimo libro Arcadia for all Colin Ward racconta un'epopea di questo mondo di come questi manufatti venissero costruiti e lì dentro c'è un po' tutta la sua idea anche la sua ipotesi di anarchia e la sua idea anche di abitare queste piccole costruzioni vengono inseguite da Colin Ward nel loro farsi attraverso il recupero dei materiali spesso di scarto il recupero addirittura di interi manufatti come in certi casi carrozze di pullman o vagoni ferroviari in qualche caso ex baraccamenti militari tutti vengono come dire recuperati trasportati in modo avventuroso a volte a pezzi a volte venduti dalle stesse ferrovie a volte rimontati e cambiati di forma integrati aggiunti di pezzi eccetera eccetera per cui descrivendo anche fra l'altro nel libro originale con alcune foto molto belle questi paesaggi come dire del 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 fai da te prima di diventare un hobby fai da te per necessità diciamo ecco questo è un altro degli esempi che trovate in questo libro e che è di cui con il corso occupato ma è molto interessante quanto diversi siano questi esempi e qui c'è una delle ragioni che mi sembrava rendesse anche in qualche modo utile per l'oggi fare questa antologia cioè l'articolazione la profondità e la varietà di suggestioni e temi affrontati dentro questa tradizione libertaria che oggi tende a essere anche poco nota ma anche piuttosto impoverita si tende a pensare gli stessi anarchici tendono a occuparsi di abitat umano forse nei termini dell'occupazione di case a volte ma diciamo tutto questo bagaglio e questa diversificazione e ampiezza e anche come dire alternatività nel punto di osservazione sembra andata in larga parte perduta quindi è interessante vedere come Colliward si occupasse di queste cose che vi avevo scritto da un altro lato per esempio va a ritrovare la dimensione come dire della partecipazione attiva e fattiva dell'essere umano alla costruzione del suo habitat in un caso come la costruzione della cattedrale di Chartres su cui lui ha scritto un libro e qui si ricollega a quel filone Arts and Craft e anche a Kropotkin che vedevano come dire nella stagione delle associazioni dei mestieri durante il Medioevo una stagione quasi forse William Morris aveva scritto in cui si è andati più vicini ad una dimensione di socialismo cioè una specie di convivenza umana che costruisce una comunità a partire dal fare bene il proprio mestiere e così nella costruzione di Chartres c'è tutto il discorso anche un po' ideologico anche in parte poi smentito dagli storici dell'arte eccetera ma dell'arte medievale come sforzo collettivo come sapete che John Ruskin aveva scritto come dire aveva classificato tre forme di ornamento la più alta che lui chiamava ornamento rivoluzionario era quella in cui colui che la realizzava era partecipe di quello che stava facendo non era il mero esecutore il rango più basso per Ruskin era invece l'arte classica in cui l'esecutore è una persona è un riproduttore un riproduttore che ne so del capitello ionico che ha una certa forma un certo modello e va riprodotto quasi meccanicamente e quindi diciamo per Colin Ward c'è questo aspetto di ricollegarsi questa tradizione dentro questa grande costruzione medievale così anche celebrata in ambito di storia dell'arte dentro cui molti non penserebbero di ritrovare questo ingrediente diciamo di quelli che lui chiamava i semi sotto la neve lui era molto amava molto questa metafora siloniana Colin Ward non è diciamo era un anarchico gradualista no? cioè lui diceva da qualche parte ho letto recentemente in qualche articolo diceva sfido chiunque a trovare un mio testo e ne ha scritti tanti in cui io dico la rivoluzione è dietro l'angolo non ho mai pensato in vita mia e non so neanche bene in cosa consisterebbe questa rivoluzione l'idea di anarchia che interessava di più Colin Ward era quella che lui chiamava anarchia in atto cioè quella situazione che accadono qui e ora in cui un momento in cui si producono rapporti fra gli esseri umani rapporti di lavoro diversi fra artigiano operaio e opera che sta compiendo eccetera eccetera producono qui e oggi delle dei momenti appunto di anarchia in atto come diceva lui e quindi appunto la sua ricerca era un po' rabbdomante di questi semi sotto la neve e questo libro è un po' un'antologia di questi di questi semi altri libri molto belli e anche molto divertenti sono un libro scritto negli anni settanta quindi in tempi in cui la cosa non era ancora diventata affatto tema letterario o pubblicistico di moda è un libro che costituisce che ricostruisce la storia degli orti un libro che si chiama The Allotment di cui ci sono c'è un testo qua preso da questo libro che traccia una storia degli orti con delle escursioni anche in una storia mondiale ma soprattutto una storia britannica osservando da un punto di vista assolutamente serio cioè da un punto di vista delle pratiche che permette della pratica appunto quotidiana di momenti di vita all'aria aperta in genere in situazioni in cui la città è inquinata in cui gli operai fanno un'attività monotona ripetitiva e quindi diciamo un microcosmo che pone appunto delle questioni che fanno in qualche modo attrito conflitto con l'ordine urbano convenzionale in modo auto-organizzato e fuori appunto dalla ricerca della grande trasformazione ma dentro una forma di trasformazione di affermazione di trasformazione quotidiana a partire dalle proprie vite il testo che il libro dispone i testi in forma cronologica e percorre anche qui ho scelto ho cercato di scegliere uno spettro più ampio possibile quindi sono testi scritti lungo quasi mezzo secolo no grazie però fa eccezione a questo ordine cronologico il primo testo che ho voluto mettere perché è molto emblematico dello sguardo e della ricerca di Colliward mi sembra si chiami alternative in architettura è un testo degli anni 70 in cui e questo è un'altra dei modi in cui Colliward anche un po' fuori dai luoghi comuni cerca questi semi sotto la neve nell'ambito dell'abitare umano fa una specie di inventario di architetti alternativi e mette insieme un elenco di figure e di progettisti che ancora oggi per me è consigliabile per esempio a uno studente a un giovane studente di architettura sono figure che ancora oggi costituiscono atteggiamenti casi di atteggiamenti diciamo di outsider in più di un caso sono architetti o ricerche per esempio che anticipavano già negli anni 70 ricerche attorno ai temi dell'energia delle energie alternative delle tecniche di costruzione alternative e in quello è un altro dei campi in cui Ward dimostra che a partire dalla sua come dire cultura autocostruita stava precorrendo di molto di molti anni di molti decenni temi che molto più tardi oggi sono diventati cruciali negli anni 70 anche in questo testo che dicevo in particolare in questo testo che dicevo Colli Ward diceva parlando dell'architettura che veniva allora ma che ancora oggi è chiamata l'architettura vernacolare cioè l'architettura che per esempio uno degli architetti che lui cita dei grandi outsider Bernard Rudowski aveva studiato in un libro fondamentale che si chiama architettura senza architetti cioè appunto l'architettura che nei millenni ha costruito il 99% dell'abitat umano senza architetti quell'1% in cui erano presenti degli architetti è quel campione studiato che si trova sui manuali di storia dell'architettura ma l'abitat umano che ha formato il paesaggio e l'ambiente abitato è stato costruito in modi complessi non sempre come dire dagli stessi abitanti spesso con contributi di reticoli pulviscoli di professionalità diverse semiprofessionalità eccetera eccetera o professionalità multiple cioè agricoltori che facevano anche costruttori costruttori che facevano anche allevatori eccetera eccetera hanno costruito il paesaggio umano così come abbiamo fatto in tempo a conoscerlo ancora per frammenti fino quasi ad oggi però lui dice questa architettura vernacolare oggi lo scriveva negli anni 70 è morta almeno nel mondo occidentale è diventata lo stile ranch lui dice il finto vernacolo commerciale che poi nella nostra villettopoli italiana conosciamo benissimo ma lui lo conosceva nella versione inglese o anglosassone americana lui diceva negli anni 70 e questa è un'affermazione straordinariamente vera ciò che potrà costruire un nuovo tipo di vernacolo è la crisi energetica cioè il ritorno ad una condizione di necessità da fronteggiare e quindi inventando qualcosa di nuovo a partire da una condizione che incontra di nuovo come è stato per millenni la presenza di un limite il limite dato dalla appunto coscienza presa di coscienza della non della finitezza delle risorse e della fragilità dell'ambiente è un'altra mi sembra delle cose in cui Colling Ward aveva in qualche modo precorso dei temi che oggi sono sulla bocca di tutti anche se spesso in forma di superficiale diciamo di greenwashing ecco più che di trasformazione profonda degli ingredienti dell'architettura e del paesaggio adesso non so che ore si sono fatte quanto tempo abbiamo se siete stufi o cose che ore sono? andiamo avanti ancora un po' si se qualcuno vuole interrompere con delle domande dico un'ultima cosa nella mia introduzione dico che la la lettura di tutti questi testi Colling Ward perché poi io spero che a chi capita e chi è interessato e chi rimane interessato da questo libro poi vada a leggersi i testi da cui sono tratti i singoli saggi e sono tratti da una sembra dieci dodici libri diversi ciò che emerge rileggendo oggi questi testi di Colling Ward su tutti questi temi molto disparati messo insieme agli sguardi ai discorsi di alcuni di quelle figure che lui seleziona e interpreta e cita vanno a costituire mi sembra un discorso alternativo sull'architettura anche sulla sua modalità della sua storicizzazione e della sua critica che fanno sembrare molta della storia e della critica dell'architettura che si fa oggi molto vecchia mettendo insieme lo sguardo di Colling Ward quello di Lewis Manford a cui lui spesso si rifà quello di Bernard Rudowski a cui mi riferivo prima o quello per esempio di un straordinario architetto egiziano a quei tempi veramente sconosciuto ai più che era San Fatì che lavorava sui temi dell'architettura energetica climatica e meteorologica negli anni 50 ecco mettendo insieme gli sguardi di queste figure che lo stesso Ward antologizza viene fuori un discorso che sembra ancora tutto da svolgere pienamente ma che diciamo fa sembrare la critica e la storia dell'architettura contemporanea è ancora troppo legate a una dimensione come dire di prevalenza del visivo del compositivo dello stilistico rispetto a dei temi molto più più vivi e più e più attuali e necessari e quindi diciamo aggiungerei a questi nomi senz'altro quello di Ivan Illich che Colli Ward cita più riprese e che è un'altra figura che si è occupato di tantissime cose fra cui anche l'abitare da un punto di vista molto fuori fase per il tempo in cui l'ha fatto molto attuale oggi quindi non so se ci sono delle cose su cui volete discutere domande da fare o che cosa chiedo prima se ci sono delle domande nel pubblico ok dell'abita che non sono l'abita sottoprotta ma anche dei materiali e dell'indizia cosa si può in parte recuperare di quell'esperienza di quelle sue appunto dimensioni che eventualmente si sono applicabili all'oggi questo tema della bioarchitettura sa la bioarchitettura Colli Ward parla spesso di esperienze legate a sperimentazioni tecniche costruttive alternative legate ai temi dell'energia eccetera già negli anni 60 così non parla mai di quella parola che è arrivata molto dopo e come spesso accade quando viene coniata una parola che poi diventa diciamo un contenitore che viene un po' abusato spesso dai media eccetera eccetera diventa anche qualcosa di più aleatorio e più dai confini più imprecisati oggi è tutto green è tutto bio anche i grandi centri commerciali i grandi parcheggi automobilistici le automobili è tutto green è tutto bio quindi in qualche modo adesso questo non lo diceva Colli Ward ma una riflessione che faccio io credo che il nostro compito oggi è verificare concretamente la realtà la sostanza che sta dietro a queste sigle diciamo che in architettura io sono architetto a differenza di Colli Ward e faccio l'architetto un tema molto urgente è una critica anche agguerrita di tutta questa specie di come dire di maschera pseudoecologica e mi sembra che da da alcuni testi di Colli Ward si possa raccogliere io ritengo molto fertile molto utile il suo invito a pensare il cambio di paradigma legato alla presa di coscienza ecologica dei limiti del pianeta eccetera come una cosa che si è presa sul serio richiede una trasformazione radicale degli ingredienti noi siamo circondati tendenzialmente dagli architetti che più green e bio sono e più in realtà mantengono incarnano fossilizzano gli ingredienti stereotipati dell'architettura moderna abbiamo qua un esempio di Renzo Piano per esempio che è il più bio a sentire in media è quello consultato tutti i giorni quando c'è da chiedere qualcosa a qualcuno su questi temi è considerato il più buono degli architetti da un punto di vista per esempio dei consumi dei modelli di sviluppo spesso i suoi edifici sono una falsificazione in questi termini cioè per esempio il tema dell'involucro vetrato è un è un dogma della modernità ed è l'incarnazione di un modello che salvo in condizioni particolari per certi edifici una serra per esempio una serra ha tutte le ragioni di essere interamente vetrata perché diciamo la intera vetratura del suo involucro produce proprio un effetto di surriscaldamento ora questa è un caso veramente raro e isolato per il resto il modello dell'edificio interamente vetrato che ha avuto come dire una fase anche di giustificazione anche filosofica tra i pionieri dell'architettura moderna come nell'espressionismo tedesco eccetera eccetera come incarnazione di un'idea di trasparenza di leggerezza eccetera eccetera abbiamo avuto ampiamente oggi le le prove che si tratta di mettere in discussione radicalmente questo modello invece diciamo prevalentemente oggi si cerca di di salvare capra e cavoli cercando di fare una presunta architettura ecologica con gli stessi crismi di quella che invece era distruttiva per l'ambiente c'è qualcosa ovviamente che non funziona funziona a livello di marketing funziona a livello di comunicazione se si hanno le capacità di farla funzionare in termini di che ne so di massa d'urto comunicativa di capacità di di dire frasi o produrre icone memorabili eccetera ma non funziona nella pratica insomma non funziona dal punto di vista concreto c'è un campo interessantissimo molto basso molto negletto che è quello della verifica ex post che si fa pochissimo ci siamo subissati da apparati di certificazioni di protocolli eccetera che si fanno tutti ex ante si fanno tutti sulla carta dove si ipotizza una realizzazione cantieristica in cui è come se tutto fosse certificato e comprovato in realtà dentro la cantieristica poi chi è del mestiere sa che succede di tutto ci sono delle casi che conosco personalmente di verifica di comportamenti termici energetici su costruzioni di grandi architetti di grandi architetture firmate che sono interessantissime che sono di livello ultra basso rispetto a queste certificazioni a gold plus eccetera che ormai si compran diciamo vengono comprati dalla grande committenza e quindi direi che sulla biarchitettura è un mercato anche quello è un'industria e anche quella bisogna trovare il modo di parlare di cose più concrete che delle grandi etichette sicuramente diciamo che il tema di costruire in un altro modo rispetto a quello nocivo per l'ambiente e per gli esseri umani che si è praticato in massa nel novecento è il tema del nostro tempo è uno dei temi del nostro tempo sono Toglio Zampedri forse architetto e sentendoti mi veniva in mente quanto manchi una rivista come Spazio Società che era per chi non è del mestiere una rivista edita da Giancarlo De Carlo di cui Papa Roberto abbiamo fatto abbiamo celebrato il decennale della morte due anni fa e che esatto nella quale Colin Ward era nel comitato esecutivo e di tutti i nomi che hai che hai citato era comparendo regolarmente sulla rivista era una grande rivista secondo me anarchica in questo senso una grande rivista di elaborazione intellettuale e di verifica poi dei risultati perché De Carlo non si tirava indietro dall'analizzare poi se stesso a parte che sulla sua rivista a parte un progetto non si è mai visto un suo lavoro appunto però detto questo una cosa secondo me che è interessante del pensiero anarchico in ambito di 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 progettazione dell'architettura è proprio il fatto che probabilmente il pensiero anarchico ci porta cioè porta ha portato molti operatori architetti urbanisti eccetera a lavorare su concreto appunto quello che dicevi tu cose a elaborare un pensiero sullo spazio fisico una persona che non l'ha citato che secondo me però va citata è Reclus un grande geografo da cui deriva forse tutta la geografia contemporanea almeno quella geografia che non è limitata solamente allo spazio fisico in quanto tale ma è qualcosa di un po' più articolato e complesso e che però leggendo i suscritti mi viene in mente storia di un ruscello che descrive un ruscello scritto nell'ottocento credo non so quando che scrive la storia di un ruscello dalla foce fino al mare e scrive parlando anche lì di inquinamento industriale ancora in tempi di rivoluzione industriale e quindi sta grande attenzione alle cose pratiche della vita che ha fatto che ha dato il ha dato un contributo importante al tipo di analisi sul territorio e anche diciamo ha è stato capofila di tutto quel pensiero ecologista non dimentichiamoci dei pensatori come Murai Bouchin o altri o anche pensatori tipo che so mi viene a mente Segal o altri che hanno fatto degli appunti appunto sulla tecnica mi è piaciuto moltissimo l'intervento che hai fatto adesso correggendo un po' in parte questo discorso sull'edilizia bioedilizia io mi occupo di questo mi occupo di bioclimatica più che altro insegno bioclimatica e tra l'altro mi è piaciuto anche molto il discorso che hai fatto sull'attenzione che che il nostro dottore ha posto sull'architettura vernacolare io non la chiamerei già più l'architettura vernacolare perché la chiamerei forse tradizionale non so esattamente o sinergica nel senso di sinergica nel senso di attenzione alla fisicità del luogo se noi ci spostiamo qui a Trento o se ci spostiamo di 10 chilometri anzi no se facciamo un edificio qui facciamo 10 metri là cambia completamente l'approccio al territorio anche se il modello è lo stesso e torniamo su e su questo si potrebbe introdurre anche tutto il discorso di modello e di tipo che faceva che negli anni 80 ha permeato la cultura architettonica tradizionale e a cui ad esempio De Carlo era fermamente avverso perché il tipo per lui giustamente era una stereotipizzazione e quindi una banalizzazione del contesto una banalizzazione non solamente dell'ambiente ma anche del progetto e della costruzione e non veniva dato quel giusto risalto a quello che appunto tornando a Reclu erano tutti i luoghi e i micro luoghi che costruiscono l'abitare e che poi danno origine anche a tutta la ricchezza poi compositiva che troviamo nel mondo alla fine dei conti piccolo sì questo tema della concretezza che è un po' uno degli apporti che questo filone libertario ha dato quella mi sembra una delle cose una delle cose importanti di Collingwood e di questo modo di parlare e di guardare l'architettura e la città cioè soprattutto oggi nel senso che c'è sempre un atteggiamento che testimonia di un modo di prendere sul serio i luoghi nel tempo della massima astrazione nel tempo della delocalizzazione della deterritorializzazione della virtualizzazione è particolarmente come dire utile ognuno dei tentativi di molti di questi nomi che abbiamo fatto di invece prendere sul serio i luoghi è anche una delle ragioni per cui è un po' difficile tradurre Collingwood perché già in questo libro la pazienza del lettore viene a volte messa un po' a dura prova perché lui parla spessissimo di luoghi specifici in un tempo specifico cioè lui prende molto sul serio i suoi luoghi e i suoi tempi è la stessa ragione per cui è molto difficile tradurre anche Paul Goodman perché bisogna fare un gran lavoro per isolare delle parti che non contengano dei riferimenti che a una persona che non sa esattamente in quale momento è stato prodotto quel testo a volte ci sono dei cognomi dei luoghi dei fatti che sfuggono del tutto però è un modo che in qualche modo testimonia di questo atteggiamento di prendere sul serio il proprio tempo e i propri luoghi e questo è di importanza oggi secondo me grandissima e quindi uno degli aspetti di concretezza è questo la non genericità del discorso e poi sì Recluse Colliward a differenza mia lo cita spessissimo e guarda caso era un geografo come Kropotkin che era un altro geografo quindi ci sono queste diciamo correnti un po' nascoste e legate alle scienze territoriali dentro alla fondazione del pensiero anarchico insomma e anche De Carlo per niente aveva madre e padre che erano botanici che erano? botanici ecco sul fatto di come si possa chiamare questa architettura a cui fa spesso riferimento Colliward ma ancora più spesso Rudowski se appunto vernacolare vernacolare è per usare un termine nell'accezione illiciana cioè di qualcosa che riguarda qualcosa di fatto in casa insomma è chiaro che è un'accezione molto particolare e che per il resto è un'architettura come diceva Colliward già negli anni 70 impraticabile tradizionale però è una parola che anche Colliward usa raramente perché giustamente è molto difficile per un anarchico fare una specie di elogio della tradizione e io di questo sono molto d'accordo o si comincia a parlare delle diversità di tradizioni ci sono anche tradizioni sentivo un paio di anni fa uno che è stato amico e collaboratore di Ivan Illich per tantissimi decenni che è quel messicano che si chiama Gustavo Esteva che era in Italia e che è molto vicino all'universo zapatista in Messico è una specie di consigliere di grande vecchio così che parlava di questa tradizione del Chiapas che è una tradizione di reinventare le tradizioni allora quella come dire è una tradizione che si può in qualche modo difendere ma la difesa delle tradizioni come fatto in sé da rimpiangere o da ricostruire porta per una strada tradizione nel senso allora nel concetto io mi sono trovato a ripetere su questa cosa scrivendo un libro progetto che è uno dei maenzia è uno dei diciamo che Cecchietto l'autore di quella mensa tra l'altro e che è stato uno degli allievi di De Carlo forse il preferito anche se ha perso gran parte del pensiero anarchico ma diciamo che è un tentativo di archistarvi a cui sono molto affezionato tra l'altro però e vabbè in quell'ambito lì Vernacolo sembrava una diciamo una contrapposizione in un'architettura colta se noi andiamo a analizzare invece le modalità insediative su un territorio non c'è mai questa contrapposizione c'è sempre un mescolamento incredibile mi piace il tuo appunto delle tradizioni e lo trovo molto significativo di fatto non ho trovato un'altra modalità per descrivere la ricchezza e la complessità delle architetture appunto delle tradizioni che però appunto sono una mutazione continua è un reinventare continuo e fanno capo a un modello che viene sempre sfatto e disfatto ricostruito e adattato al luogo e alle persone che lo abitano quindi tradizione in senso molto evolutivo molto come dire di ricerca anche non di sì non con le braghe di 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 pelle insomma e col e col cappelletto con la piuma volevo fare una domanda in riferimento a anche quello che si era detto prima nel tavolo di discussione che c'è stato quella persona che ha fatto quel riepilogo molto sintetico sulla storia dell'urbanistica parlando del ruolo degli architetti come strumento del di un sistema neoliberale e questo è riferimento anche alla morte dell'architettura vernacolare nella nostra società secondo Word e che quindi presuppone che ogni architettura e ogni edificio debba avere un progettista tecnico un tecnico e quindi volevo chiedere qual è l'idea di Word su questo progettista e qual è il suo ruolo nella società questa è una dell'area per cui mi è sembrato mi è venuta voglia di fare questa antologia perché l'atteggiamento su questo di Colin Ward è molto articolato mi capita spesso di di imbattermi invece in figure anche dentro al mondo un po' diciamo alternativo eccetera eccetera che semplificano molto invece in questi termini cioè il buono è che ne so solo la l'architettura autocostruita gli architetti sono tutti sempre al servizio come dire del degli interessi economici eccetera Colin Ward ho fatto la scelta come dire anche dei testi anche in funzione di questo prende in considerazione diverse posizioni anche tutte piuttosto radicali in modo anche poco ideologico cioè diciamo tratteggia diverse possibilità in cui diversi modi di produrre l'abitato umano possono avere un senso e quindi è proprio la casistica nella sua interezza che fa un po' dà l'idea di una molteplicità e della complessità possibile per cui il Colin Ward prende in considerazione fenomeni che vanno dalla auto-organizzazione totale in cui la dimensione professionale è completamente esclusa che vanno appunto dall'autocostruzione uno dei testi che ho tenuto a mettere in questa antologia è un testo su Walter Segal che è un'altra figura di questa costellazione di outsider piuttosto strani che è un architetto svizzero ungaro inglese che poi si era stabilito a Londra e che aveva dopo anni di professione abbastanza convenzionale si era stufato anche per ragioni esistenziali dell'attività normale e professionale e aveva elaborato una tecnica costruttiva finalizzata all'autocostruzione quindi una semplificazione del ballon frame dei modi di costruzione leggeri a telaio in legno classici americani versione semplificata in funzione del trasporto del sollevamento delle cose per piccoli gruppi non professionisti e aveva poi pian piano anche grazie a Colin Ward che l'ha messo in contatto con una serie di realtà londinesi si sono realizzate con questo metodo Seagal tante costruzioni e si realizzano ancora oggi c'è un'organizzazione dopo che Seagal è morto che si chiama Walter Seagal Self-Build Trust e è un esempio per esempio per Colin Ward di modi sensati di fare qualcosa che attiene attivamente alla creazione o trasformazione intera o parziale dell'habitat umano così come appunto fa una grande lavorio ed è una delle parti in cui lui ha sempre dedicato molta energia di tessere questa specie di rete di questa specie di controstoria dell'architettura anche contemporanea perché lui aveva tutta una serie di riferimenti spesso come dire la controcultura corre il rischio di perdere di vista tutti i punti di riferimento cioè di navigare spesso l'architettura non so in paglia con tecniche anche interessantissime si muove in una specie di immaginario un po' da puffi un po' da mulino bianco un po' cioè è come se mancasse qualche esperienza di approfondimento un po' radicale ecco Colin Ward in questo senso è una miniera di riferimenti in qualche caso magari un po' datati ma spesso molto utili e che ne so lui è difficile che non avesse sotto mano o realtà da un punto di vista sociale di auto-organizzazione cooperative in Inghilterra gruppi di autocostruzione eccetera eccetera o anche di progettisti architetti outsider a livello internazionale per cui da Lucien Crowley in Belgio un altro del Giro di Vecano a Salfatia a Charles Correa in India una moltitudine insomma di figure che lui andava come dire spesso anche a conoscere a incontrare a approfondire e a diffondere per cui questa anche sua mentalità un po' da propagandista lui orgogliosamente si è sempre definito non si definiva un intellettuale non aveva studiato eccetera era un propagandista però era un propagandista sorprendentemente aperto anche ideologicamente a ciò che stava fuori dai confini del suo anche della sua cultura di riferimento no? è straordinario quanto Ward continua ad alimentare un dialogo da anarchico propagandista molto ha convinto con figure che stanno fuori dal mondo dell'anarchia e quindi anche rispetto alla professione lui è molto laico e dice spesso come dire ci sono un'infinità di modi di fare qualcosa di sensato ci sono anche un'infinità di modi di fare qualcosa di insensato allora niente praticamente occio cioè sfogliando un po' anche il libro e anche quello che ha detto lei diciamo che viene un po' esaltata questo tipo di architettura dei non architetti cioè fatta dai non architetti nel senso cioè c'è stato l'esempio che magari la cattedrale era fatta dai carpentieri e quindi c'era tutta diciamo una comunità che agiva quindi la cattedrale era un po' l'immagine di quello che la comunità voleva esprimere e quindi non era l'architetto da fuori in studio che arrivava con il progetto bello ok bisogna fare così quindi era sempre un'architettura che veniva un po' dal basso oppure anche l'esempio prima che diceva del paesaggio che il 99% del paesaggio è costruito da non architetti nel senso se si pensa anche al paesaggio quindi anche tipo i campi di agricoltura eccetera e anche tutte le città medievali che comunque sono costruite insomma da carpentieri eccetera allora dire voglio fare una domanda nel oggi per uno vabbè io sono studente di architettura per uno che ha uno studio di architettura e quindi che lavora con gli strumenti di oggi e con l'idea di oggi quanto può essere cioè quanto si può aspirare a le linee guida di questo libro cioè anche magari una domanda personale lei che fa architetto penso anche cioè cosa le le ha dato questo libro per per quando si appresta a entrare nel suo studio a fare un progetto classico che può essere costruire la casa da zero o magari a non so riqualificazione di uno spazio industriale eccetera insomma questa era la domanda no quello che appunto ci tengo a precisare che ho appena detto a lui è che in realtà lo spettro degli esempi e quindi anche del punto di vista della opinione di Colling Ward su questi temi è molto vario quindi c'è il discorso sulla cattedrale di Char anche sovraccaricato se vogliamo anche un po' ideologicamente ma anche consapevolmente c'è tutto il discorso su quelle esperienze di di autocostruzione in varie parti in vari contesti lui per esempio è sempre stato un amico di un altro anarchico che è stata una figura di riferimento per tutti i temi dell'autocostruzione dagli anni 60 che è questo John Turner che è uno di cui sono stati sono stati pubblicati anche in italiano alcuni suoi libri fondamentali che ha passato decenni in Peru a lavorare nelle favelas nelle bidonville peruviane quindi ci sono esempi di questo tipo ma ci sono esempi di un sacco di architetti che fanno che hanno fatto un sacco di lavori interessanti e quindi per un architetto che studia non è completamente assolutorio perché in realtà lui comunque è sempre molto critico è sempre come dire alla ricerca di un principio di senso in quello che si sta facendo l'architetto può essere in qualche modo utile o vicino a un luogo a una comunità eccetera eccetera o può essere dannoso e nocivo però appunto lui per esempio rispetto a Ivanilici Ivanilici era veramente radicale cioè lui considerava che gli architetti fossero solamente un danno e basta perché nei mondi a cui lui si riferiva affettivamente sia geograficamente che temporalmente gli architetti erano veramente una minoranza che serviva praticamente solo i principi e i vescovi potenti insomma cioè sono le operazioni legate al potere mentre il resto era tutto come dire le persone gli artigiani eccetera perfettamente in grado di cavarsela da soli leggere Isilici sui temi dell'habitat è molto più drammatico per un architetto dal punto di vista della destabilizzazione leggere Collinwall Collinwall è molto più possibilista lui dice l'architetto oggi soprattutto nelle mie esperienze può essere un facilitatore uno che un riparatore uno che fa lavori di questo tipo qua invece della gioielleria lui la chiama quella che oggi si chiama il lavoro delle archistar cioè diciamo della produzione dell'architettura di intrattenimento che crea l'immagine che cerca l'icona eccetera eccetera e quindi in realtà se leggi questo libro non è un libro che dice la strada è solamente quella della deprofessionalizzazione del recupero perché è coscientissimo di una situazione in cui è spesso una semplificazione che sfiora il ridicolo pensare che sia l'unica strada possibile in una società complessa come questa altro conto è dire in luoghi in cui è ancora un'attività prevalente fra gli esseri umani il mito della tecnicizzazione della introduzione di normative che spesso vengono identificate con una garanzia di sviluppo di igiene di sicurezza che ne so durata nel tempo spesso crea un effetto contrario crea un effetto di sradicamento di pratiche ancora largamente in uso però dove sono state sradicate già decenni o cinquantenni fa è molto complessa lui è estremamente ammirato interessato a chi tra i giovani nelle nuove generazioni eccetera ricrea dei tentativi di diciamo intervento diretto di mettere le mani sporcarsi le mani costruendo eccetera ma non pensa che sia l'unica strada e quindi c'è una gamma come dire sa che per esempio non è che tutti gli abitanti hanno tempo di costruirsi la propria casa e neppure neanche di passare che ne so tutta la loro giornata in riunioni di cooperative di attivismo eccetera eccetera perché contempla in questo senso lui questa sua come dire anche autoformazione da autodidatta così lo ha reso anche come teorico molto umano molto aperto alla diversità delle esperienze quindi diciamo è molto anche corroborante per un giovane studente di architettura se non ci sono altre domande ne faccio io una allora visto che è stato citato più volte Ivan Illich quanto la convivialità che il suo famoso testo ha influenzato Collingward e quanto la convivialità possa essere strumento anche tuttora e tutt'oggi nei processi di rigenerazione urbana dunque quanto ha influenzato Collingward non saprei esattamente e lì c'è un nome che lui cita spesso devo dire che se non ricordo male lui lo cita più spesso in ambito perché un altro tema di cui forse il tema che nell'ordine per numero di pubblicazioni dopo l'habitat umano di cui si è occupato di più Ward è l'educazione e la pedagogia e quindi forse mi sembra di ricordare che Ward abbia frequentato Illich soprattutto sui temi della descolarizzazione eccetera eccetera però appunto per esempio in un paio di casi in cui lo cita qua lo cita su questi temi invece dei tecnici come dire delle professioni disabilitanti così non ricordo se lui parla mai di convivialità sulla convivialità di Illich nell'oggi anche sui temi dell'abitare della città eccetera vale un po' lo stesso discorso secondo me che ho detto prima sulla bioarchitettura sulla bioedilizia lo stesso Illich parlava delle parole ameba cioè quelle parole lui aveva anche preso da un suo amico linguista il significato scientifico di questa che aveva coniato questa definizione delle parole ameba che diceva le parole che assumono più di 25 significati diversi diventano sono classificate parole ameba secondo lui convivialità è diventata ampiamente una parola ameba la può usare Italy Farinetti come si chiama una azienda che fa un rinfresco per non lo so aziendale un assessore che fa una fiera del prosciutto così come dire è una parola che in sé vuole dire poco secondo me fra l'altro il titolo del libro di Ivan Illich era più bello della sua traduzione italiana in italiano era tradotto solo la convivialità il titolo è tools for conviviality cioè strumenti attrezzi per la convivialità e infatti è molto incentrato sull'uso degli strumenti sul tipo degli strumenti su quel discorso che lui poi ha fatto e ha portato a un livello di sofisticazione meravigliosa sulle implicazioni che uno strumento si porta dietro a livello politico a livello energetico dei rapporti interpersonali dei rapporti di lavoro eccetera eccetera un discorso che poi ha fatto per esempio sull'energia equità sulla bicicletta e che si collega a un campo straordinariamente interessante oggi molto trascurato che era diventato molto di moda negli anni 70 che è quello delle tecnologie intermedie della misura nella tecnologia che era quello di Schumacher di piccolo e bello che era stato un best seller e che poi era un Oscar Mondadori poi non è stato più pubblicato adesso è stato ripubblicato a proposito di cose un po' come dire sospette da slow food editore questo tema era molto vicino in quel periodo a Schumacher e a Rivanilici cioè questo tema della la misura la proporzionalità nelle tecniche ci sono tecniche ci sono strumenti ci sono motori che passano quella certa soglia e cominciano a produrre l'effetto opposto a quello desiderato la produzione di studi di Vanilici si sintetizza in questa formula qua principalmente lui stesso lo diceva per cui una volta se ne è occupato in termini di trasporti una volta se ne è trasformato in termini di abitazioni una volta in termini di salute medicina un'altra volta in termini di scuola cioè tutti esempi in cui passata una certa soglia anche di scala e qui c'è un altro tema molto vicino anche quelli di Colliward e di Kropotkin si comincia a produrre a sortire l'effetto opposto la scuola comincia a produrre assenza di formazione di educazione l'ospedalizzazione comincia a produrre malattia eccetera eccetera i trasporti le automobili l'alta velocità comincia a produrre discriminazione nei rapporti cioè una nuova prima classe una nuova quarta classe che sono quelli che non possono prendere la prima eccetera per cui sono diciamo credo che se uno va bisogna con il ci bisogna andare subito oltre questa parola convivialità e venire a questi punti che sono molto più disturbanti perché se no si rischia di poter usare questa categoria in cose molto come dire no un po' così superficiali grazie ci sono altre domande allora se non ci sono altre domande ringrazio l'architetto Borella per essere stato qui con noi averci raccontato questa figura osservatore e possiamo dire studioso di architettura e lo ringraziamo di essere stato qui con noi l'Oltra Economia Festival certo allora siccome questo libro è stato stampato in 500 copie e sono le hanno vendute tutte l'editore lei ha recuperato insieme 6 e sono qua se qualcuno vuole comprarle saranno qua penso anche nei prossimi giorni non so però siccome erano troppo poche allora ho portato anche qualche copia di quel testo fondamentale di Kropotkin Campi Fabbriche Officine curato è stato editato da Colin Ward e con una mia prefazione e poi un libro che è molto bello per conoscere Colin Ward che è questo Conversazioni con Colin Ward fatto una decina o quindicina di anni fa è una lunga intervista di David Goodway che è uno storico inglese che percorre tutta la vita di Colin Ward dagli anni 20 al 2000 e infine ci sono due copie di un librettino che ho scritto io che si chiama più specificamente sui temi dell'architettura che si chiama Per un'architettura terrestre in cui si parla anche di tutte queste cose grazie grazie per un'architettura terrestre